Uè! Non fare il pescelesso! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci Xyuderone! Dai! Uè! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono Xyuder e ragazzi come vedete dobbiamo completare i time trials quindi i percorsi acquatici che ci vengono chiesti in questa settimana nelle sfide di Fortnite. Il primo lo avete appena visto prima che scappasse lo troviamo esattamente vicino a Brughiere Briumuose e per la precisione proprio in questo punto quindi trovate una barca passate attraverso il cerchio azzurro e da lì completerete il primo percorso. Per quanto riguarda invece il secondo ed ultimo percorso a tempo che dovete fare basta semplicemente che raggiungiate il piccolo corso d'acqua in fianco a Lago Languido quindi in poche parole quello che state vedendo in questo momento basterà semplicemente attraversare il cerchio azzurro che si trova più o meno in questa posizione lo vedrete esattamente qua con una delle barche che ci sono intorno a noi o qui oppure lì fare il percorso e completerete la sfida. Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi siamo in live su twitch ciao non parte l'altro grazie